Noi male, noi male sotto tutti gli aspetti, è inutile che andiamo a dire qualche problemino, problemi ce li hanno tutti, così come abbiamo noi, quindi è inutile star lì a piangere sulle condizioni, la realtà è che noi siamo una squadra che dobbiamo essere capace anche magari in difficoltà, come siamo stati oggi in difficoltà, di trovare gli argomenti e le armi per vincere comunque, se vogliamo fare strada, se vogliamo diventare una squadra che ambisce ad arrivare agli alti livelli. Severa l'analisi di coach Ricalcati al termine della partita fuori casa contro Pesaro, che ha segnato la sconfitta degli Oro Granata con il risultato finale di 82 a 75. Secondo l'allenatore la squadra non è ancora sufficientemente pronta. In questo momento il riscontro che stiamo avendo dalle recenti partite dice che non siamo ancora pronti. Una serata decisamente no per i veneziani che non sono riusciti a rialzarsi nel corso della partita, lasciando così la vittoria all'avversario. Benissimo Pesaro che ha giocato come ci si doveva aspettare che giocasse per una squadra che è in difficoltà. Sicuramente l'effetto dei c'è stato, perché mi sembrava che c'è stata una grande partecipazione di pubblico e la partita man mano che si è svolta ha acceso anche l'entusiasmo. Grazie a Pesaro e grazie anche a noi che davamo una mano a Pesaro ad avere un'ottima prestazione.